Sono Giovanni Cervigli, rappresento l'Ordine dei medici veterinari della provincia di Macerata come presidente. L'esperienza del Covid ci ha costretti a limitare i contatti interpersonali, penalizzando soprattutto i momenti di formazione in presenza. Ci ha fatto scoprire però nel contempo la valorizzazione di altri metodi di incontro, utilizzando le tecnologie informatizzate disponibili che sono sicuramente più adatte per l'esigenza di tempo e l'accessibilità per noi tutti i medici veterinari che siamo sempre impegnati sul campo. Nel contempo però ci ha permesso anche di non rinunciare all'esigenza e all'obbligo formativo per i professionisti veterinari che sono iscritti a un ordine professionale. Da subito questo progetto mi è sembrato entusiasmante. L'ho condiviso insieme agli altri miei colleghi della Regione Marche, ci è stato presentato dall'Istituto Otomofilattico dell'Umbria e delle Marche perché ho percepito immediatamente che consente a tutti noi di promuovere la rapida circolazione delle conoscenze e delle esperienze dei vari professionisti. Questo a garantire la salute degli animali, dell'uomo, dell'ambiente e in un'ottica di One Health, come attualmente tutti quanti noi siamo coinvolti in questo principio. L'Ordine dei medici veterinari ha come mission quella di promuovere la formazione e l'informazione di tutti gli iscritti. Quindi questo è uno strumento assolutamente interessante, ci consente di partecipare tutti quanti perché in questo contesto vediamo delle presentazioni di alcuni colleghi che presentano le loro esperienze professionali, ma nel tempo potrà essere arricchito da altri interventi, di altri professionisti che vorranno essere inseriti e quindi è un sistema dinamico che consente a tutti di apportare qualcosa di nuovo. Mi auguro che questo progetto sia utile a tutti gli iscritti e che sia fruito da un maggior numero di iscritti possibile degli obiettivi professionali.